musica 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 ciao a tutti ciao a tutti bentornati eccoci qui di nuovo ritornate con un nuovo video snack snack americani prima di iniziare questo video vi ricordiamo di seguirci sulle storie di instagram su 24 e instagram ciao si vedevi al canale prima cosa iscrivete al canale e poi attivate la campanella oggi proveremo per voi gli snack americani che ci ha gentilmente inviato usa snackshop.it un nuovissimo e giovanissimo sito di snack sul quale vi consigliamo di andare perchè ci sono tante cose buone cioè dal salato al dolce io amo americani se cercate comunque un sito affidabile e super veloce nelle spedizioni questo è il sito giusto che fa per voi quindi link nell'info box ovviamente e ovviamente come non potevamo chiedere un codice sconto solamente per le nostre iscritte del 10% che è ssister tutto grande si ssisters ssisters iniziamo subito con i snack dolci cioccolatosi esattamente vai con la cioccolata presente su questo silo io vado a caso e questo è un uomo di M&M's e ovviamente e forse cioccolata bianca si anche secondo me cioccolata bianca apriamo proviamo odoriamo facciamo tutto di più siamo molto molto curiosa di provarle wow che bello sono grandi sono grandi grandi come facciano a me queste qui le volevo assolutamente ricevere ad halloween perchè candy corn sono che cosa sono i classici dolcetti di halloween però vabbè un gusto manigliato è vero questo cioccolata bianca all'interno è un gusto manigliato una volta proviamo i candy corn un caramelle no queste qua si devo dire che mi piacciono hanno quel non so che non di cioccolato bianco ma un retro gusto molto caramellato non ci piace ci piace una banana ricordo ovviamente anche un saluto a Follettina che ci segue noi ti stimiamo ti adoriamo tantissimo ciao Follettina dammola a Follettina e proviamo il prossimo snack che è Twix Twix io in realtà avevo letto spettaculis spettacules citando il vecchio Marco Togni però no in realtà speculatius speculatius si si spettacules ok proviamo questo speculatius che dovrebbe essere che è limited edition e dovrebbe essere non lo so che cosa apri e provi ecco apri e apertura di macchie appia ma che odore odore di effetto di zenzero di zenzero zenzerello di rocco co ma cosa ha scritto zenzero è vero cannella come le luci di canne di nasale eh i rocco co la fiore la fiore la fiore buone buone questo è mello morbido invece quell'altro la il caramello c'è sempre all'interno devo dire che bontà e poi hanno sempre quella quella parte un po' croccantina e poi hanno sempre quella parte un po' croccantina che è è un macello sorella questa anche se ha la cannella noi non preferiamo tantissimissimissimissimo la cannella questo qua ci fa ricordare i vecchi tempi è molto morbido molto saporito molto sincero e ci piace a noi ci piace ci piace ci piace a noi? non ci piace a voi io amo il Mars praticamente io amo il Mars questo è un altro Mars è un bel Mars Mars al choco browning senza la c finale browning che fuori il più grande di quello nostro il Mars che richiama il browning no questo questo voglio questo è più grande allora l'interno sembra il Mars normale mamma mia che porca mamma mia è morbido del browning il cioccolato io amo il Mars mandatemi tutti Mars no ragazzi la cioccolata americana no Mars posso fare una bubiscita solo per te posso fare comunque questo qua si è piaciuto mamma mia io mi copergo e di copervo e cerco andiamo avanti col prossimo snack ma mangiatelo tutto ai denti che belle mi piazzono guardate guardate fai vedere come invece di aprire su mellow cup mellow cup eccomi i risi malo cup si che praticamente è un un dolcino con all'interno un marshmallow un marshmallow mamma mia che bontà mmm buono ragazze guardate ma sta di cocco mmm burro di cocco guardate mmm va buono questo è il gusto di cocco è cioccolatoso è cremoso ma grazie adoro adorissimo questo è da provare almeno una volta eh mangierei anche il pirottino guarda che esplosione di gusto ci piace a me ci piace a te mi piace a Rita vai col prossimo ultimo e solo l'ultimo snack e coccolato oddio guardate che bella questa scocciolato guardate che bella questa butta come si chiamano questi i butterfingers blu cocco uh mini caps hazelnut un infarto hazelnut questo va bene forse l'ho detto verrebbe ma butterfinger 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 ripeti butterfinger oddio wow che belle cose qua dentro ragazzi guardate io voglio mangiare nooo 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 ha zelut ha zelut ha zelut quindi è nocciola mmmm buona però buonissimo il gusto super nocciolato in questo periodo mi sta piacendo il gusto super nocciolato ti sciolgo in bocca eh sì amate la cioccolata è un dolcino formato morsetto formato quindi bites al cioccolato questi sono ottimi vorrei da portare in borsa in giro no? anche tipo se stai al lavoro tipo butti per aria il lavoro e mangi come una porca ci piace? eh ovviamente si ci piace butterfinger butter butter burro dito dito butterfinger così dito di burro si ci piace il burro ci piace anche il burro si ovviamente e finisce oggi qui il video del cioccolatone ahahah il prossimo video è solo dolci di a quantità ragazzi ci siete già a seguire l'impressione che ci sarà anche una parte 2 di questo video di questi snack proveniti da questo sito quindi ciao seguiteci ovviamente sui social ciao su social tutti quanti iscrivetevi ovviamente ciao Aiu e fateci sapere se vi piace questo snack ciao 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 Grazie a tutti.